Giugno 2022, settembre 2022, i due passaggi chiave, il signing e il closing dell'operazione Milan Redbird, il passaggio dal fondo Elliot a Redbird di Jerry Cardinale della società rossonera. Nel video di oggi voglio andare a parlare, a raccontarvi il perché a mio modo di vedere oggi i tifosi milanisti devono sentirsi più felici, più contenti, più garantiti da quello che sta accadendo attorno alla loro società. Non si tratta qui di millantare notizie o di millantare situazioni eventuali intorno alla società, si tratta di andare a capire i contorni di quello che accadrà al Milan negli ultimi, nei prossimi anni. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre, like per sostenere il canale, campanelline accese per rimanere aggiornati, iscrizione se non l'avete ancora fatto, commenti, è il modo migliore per sostenermi, per continuare a crescere insieme. Se vi piacciono i contenuti o se avete delle critiche, sono qui pronto a rispondervi, come spesso faccio durante le giornate. Se scrivete stronzate, evito. La situazione parte, a mio modo di vedere, da quel che è sostanzialmente il dibattito social attorno al Milan. Il dibattito social che a volte è abbastanza stucchevole perché qualcuno forse si aspettava gli arabi col turbante che arrivavano a spendere, espandere. Io partirei da questo punto. Dobbiamo considerare il Paris Saint Germain come un unicum nel calcio mondiale. Nessuno acquista più i club per fare quel che sta facendo il Paris Saint Germain. La proprietà catariota ha fatto un'operazione e proprio perché la proprietà catariota ha fatto quell'operazione, nessun altro farà quel tipo di operazione nel calcio. Questo deve essere chiaro. Lo stesso Manchester City, che gode di tanti investimenti, fa comunque un progetto che è un progetto tecnico. Il Manchester City compra gli under 25, gli under 23 e li fa crescere. Certo, gente affermata come Erling Holland, ma li fa crescere dentro un progetto tecnico. Non è il Paris Saint Germain che fa quel tipo di operazione. Ora pensare che quella cosa lì sia una cosa diffusa e auspicabile è del tutto fuori luogo, è del tutto fuori dal mondo. Quindi dimentichiamoci gli arabi col turbante. Non è più tempo. L'operazione venne fatta nel 2010, ebbe il sostegno dei governi francese, catariota. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nel mondo degli investimenti e degli investitori si fanno altre cose. Primo. Secondo. Il Milan viene da una storia travagliata negli ultimi dieci anni e la gioia per lo scudetto Milan di quest'anno era inevitabilmente una gioia travolgente e trascinante per quello che i tifosi del Milan hanno passato. Ci si è arrivati dopo una gestione austera da parte di Elliot che non ha lesinato gli investimenti. Ricordiamo che comunque Elliot mette nel Milan in questi anni 700 milioni complessivi dai 300 di Yongongli alle varie operazioni che portano al post-anno cinese. È chiaro? Elliot mette 700 milioni e valuta, attendiamo di conoscere il dettaglio dei numeri nel closing, nei vari passaggi, e raddoppia il valore del club. Questa è una cosa che un tifoso oggi deve assolutamente augurarsi. Io capisco bene che un tifoso voglia rivedere il Milan berlusconiano che vince in Europa ed è una legittima aspirazione, ma per arrivare lì, per arrivare a quell'operazione oggi si passa molto di più dagli investimenti oculati e comunque mai lesinati di un Elliot che non dalle spese folli, perché le spese folli ti lasciano i dieci anni successivi del post-berlusconismo, calcoliamo anche gli ultimi anni di agonia del berlusconismo e gli anni post, e ti lasciano il vuoto, ti lasciano una squadra che arriva ottava, che arriva nona e decima, anche se poi ogni estate rialimenti le tue speranze. Ma quello è quello che accade. Ora, si passa molto di più da questo tipo di gestione, da un progetto lungimirante che non dalle spese folli. Perché Redbird sì? Perché Redbird bene? Fondamentalmente per tre ordini di ragioni. La prima, perché Elliot per sua natura non era un investitore di lungo periodo. Elliot è arrivato in un momento in cui, attenzione, Milan era insolvente, perché Yong Gong Li di fatto lasciò il Milan con 32 milioni che non poteva onorare. Elliot, che è un signore ricco, entrò e fece quell'operazione. Ma era chiaro fin dal primo minuto che Elliot avrebbe puntato alla valorizzazione e all'accessione dell'asset Milan. Quindi avere un qualcuno che invece vede il Milan per una lunga prospettiva è un qualcosa di assolutamente, assolutamente fondamentale e importante. Elliot resta nel Milan, resta fino a che troverà, lo possiamo già dire sin da adesso, il vantaggio di ulteriormente valutare la propria quota che dovrebbe essere del 30% in base, stando ai rumors, rivendendola al doppio, al triplo, al quadruplo di quello che è l'attuale valore del club. Questo è l'operazione Elliot che punta a questo, punta a dire ok monetizziamo subito una parte e rimonetizzeremo successivamente, perché se riportano, se Redbird, che è individuato come il fondo giusto, riporta il Milan dove il Milan può stare, non vuol dire a vincere le Cuppe, le Champions League, ma vuol dire a stare costantemente in quell'ambiente, se poi arriverà la Superlega tanto meglio. Ma questo è lo scenario di una successiva rivendita che a quel punto possibilmente faccia fare magari anche più di quello che oggi sta facendo Redbird con l'accessione del 70%. Questa è la prima cosa, un investitore di lungo periodo. Secondo, un investitore coi piedi per terra, con un piano. Quando si parla di media company, loro sanno di cosa parlano. Io sento tante persone parlare, io non so cosa sarà il contenuto di quella cosa lì, ma certamente dentro lì c'è un progetto. E attenzione, perché oggi i progetti sportivi non possono prescindere da tutto il resto. La dimostrazione l'abbiamo sotto gli occhi, ma l'abbiamo sotto gli occhi anche nel piccolo. Le piccole società che si limitano a una struttura scarna, parliamo anche proprio dei piccoli club, strutture scarna che fanno solo calcio, non vengono valutate e rivalutate. Le società che allargano l'orizzonte delle loro attività sono società che acquisiscono grande valore e che possono a quel punto reinvestire su quella che è l'attività ammiraglia della loro società. L'ultimo aspetto, e secondo me ancora più importante e fondamentale, sarà l'accelerazione sullo stadio. Io credo che sarà molto chiaro e molto evidente quello che succederà nei prossimi anni. Sull'area Ex-Falc di Sesto San Giovanni, 1,5 milioni di metri quadrati, ci sarà la più grande trasformazione urbana, il più grande progetto di rigenerazione urbana d'Europa. È un'operazione incredibile di cui il Milan sarà parte individuando l'area dello stadio. Lo stadio del Milan sarà lì e non dico già più Milan e Inter perché per quello che personalmente sono riuscito a ricostruire in questi ultimi mesi, non settimane, mesi, quell'area è individuata già come dentro i diversi lotti, come area dello stadio del Milan. C'è uno scavalcamento, non c'è più, non ci sarà più, non credo sarà più tema di discussione il tandem con l'Inter. Ci sarà lo stadio del Milan a Sesto San Giovanni dentro un'operazione che ha visto l'apertura dei cantieri recentemente, che vedrà la consegna del primo lotto residenziale nel 2025 insieme alla Cittadella della Salute e visione per altri investimenti fino al 2032 quando tutta l'area dovrebbe essere completata. È un'operazione decennale dentro il quale bisogna entrare oggi e dentro il quale il fondo Redbird, sono certo, si inserirà andando a individuare quelle che sono le esigenze e quelle che sono le esigenze, attenzione, dello stadio e della media company che Redbird vuole creare lì, con questa visione di lungo periodo. Quindi c'è un'indipendenza del club rispetto a questa attività, un'indipendenza che viene garantita da Redbird. Questo è quello che personalmente vi posso dire oggi rispetto all'operazione e al perché il tifoso milanista oggi deve salutare con grande speranza il futuro della propria società. È un futuro diverso, costruito su diversi parametri rispetto a quelli che siamo abituati a considerare nel parlare di calcio, ma di questo si tratta. E ricordatevi, l'investimento sulla società milan oggi viene fatto perché l'investimento sulla società milan e anche soprattutto l'investimento sul valore storico del club, dei supporter, del supporto, del valore internazionale del brand milan e del brand milano dentro il nome di questo club. Fatemi sapere cosa ne pensate. Buona giornata a tutti. Ci vediamo presto sul mio canale. Grazie. Ciao.